Chiedono cosa ne pensi di, cioè alla fine ho un po' una domanda così, però di Fabri Fibra, veramente il rap Fabri Fibra voglio fare un pezzo nel mio nuovo album, Fabri, ho fatto un pezzo nell'album nuovo di Fabri Fibra Ok, allora facciamo così, no ho un pezzo, ho una strofa nell'album nuovo di Fabri Fibra, potentissimo Un po' ragga, raga, incredibile, spoiler incredibile